Il Qatar amici, questo me lo sono incorniciato, guardate c'è la cornice, un calcio, io che do un calcio alla Rai, solamente ieri mi hanno chiamato tutti, mi hanno chiamato tutti i dirigenti Rai, mi hanno detto guarda che noi abbiamo comprato i diritti prima dell'eliminazione, bisogna dirle, e purtroppo vi faccio vedere la ripercussione della Rai, quello che è successo, guardate qua, vi faccio vedere la stampa, guardate, la stampa, mondiali, da Fiorello un calcio alla Rai, dura ritorsione da Viale Mazzini, pignorata la casa di Biggio, ma non è tutto, non è tutto, guardate qua, guardate, dal settimo piano di Viale Mazzini hanno tirato giù un lenzuolo, io credo che sia stato proprio la di forte sa scriverlo, di pugno suo, guardate qua cosa c'è, dal settimo piano, guardate, Fiorello, aveva ragione il Tg1, l'osservatore romano, addirittura l'osservatore romano, guardate, bucate le gomme dello scooter di Fiorello, ancora ignoti responsabili, guardate, ma se voi allargate la foto, guardate, c'è scritto, Rai, ufficio ritorsioni, non sapevo che esistesse, esiste l'ufficio ritorsioni, guardate qua, questo è il pacco che mi è arrivato in questo momento, guardate, portatemelo qua, vediamo che mi ha mandato lo sciicco, piano, apri lo piano, scavicchi ma non apra, scavicchia, scavicchia, attenzione, apri tutto, la testa di un cammello, ma qual è il verso? No, capito? No, è così, è così, è così, no, la testa di un cammello, no, chiudi, chiudi, queste sono immagini che mai avremmo voluto vedere, mai, mai, a questo è un'altra testa di un'altra testa di un'altra testa di un'altra testa,